Lunedì 5 luglio è la data in cui sarà interamente riaperta al traffico la strada provinciale 173 della Sietta sterrata dal Pian dell'Alpe a Sestriere. La chiusura al traffico motorizzato dalle 9 alle 17 dal Colle Basset al Pian dell'Alpe è fissata anche quest'anno nelle giornate di mercoledì e sabato nei mesi di luglio e agosto. Il consueto ripristino primaverile è stato complicato dal crollo di un imponente muro di sostegno della strada a due chilometri dal Pian dell'Alpe. Il muro alto 10-12 metri fuori terra era costruito con pietrame a secco come la maggior parte delle opere di sostegno del tratto della provinciale 173 che dall'intersezione con la 172 del Colle delle Finestre a Pian dell'Alpe prosegue fino al Colle della Sietta. A seguito delle piogge del mese di maggio il tratto crollato inizialmente di larghezza pari a 4-5 metri si è allargato formando una voragine sul piano viabile con un elevato rischio di franamento del corpo stradale. La direzione viabilità 2 della città metropolitana di Torino ha quindi avviato un intervento in somma urgenza per un importo complessivo di circa 55.000 euro per ripristinare le condizioni minime di sicurezza per mettere il transito seppure in maniera difficoltosa e scongiurare l'evolversi del dissesto. Grazie al riporto di terreno è stato realizzato un bypass provvisorio ma è imminente la ricostruzione di una struttura ponte con putrelle metalliche poggianti su due cordoli fondati su micropali in modo da scavalcare il dissesto. All'inizio delle operazioni volte alla riapertura estiva della provinciale 173 una ditta incaricata aveva invece sistemato i due muri di sottoscarpa parzialmente crollati nell'inverno 2019-2020 in località Pian dei Cerena oggetto di progettazione durante l'inverno appena trascorso. Attraversando versanti scoscesi a quote superiore ai 2.000 metri la strada necessita tutti gli anni di interventi per la rimozione di Slavine, Massi e Pietrisco, la risistemazione della segnaletica verticale danneggiata dalle nevicate e dalle Slavine e, quando necessario, il rifacimento dei muri di sostegno a valle e di contenimento a monte della carreggiata.